Ciao Moncalieri, io sono Maia, ho tanti anni e anni di palacanesto sulle spalle perciò di raccontare tutta carriera sarebbe stra lungo però sono passata tra paesi di Francia, Spagna, Ungheria, Romagna, Turchia e che sono arrivata in punto di cominciare questa stagione a Ragusa e avevo l'opportunità di dare una mano a voi qui a Moncalieri che sono molto contenta e felice di questa avventura. Quando sono arrivata qui in parte di Moncalieri sono molto simpatici perché vedo le ragazze piene di energia, di tanta voglia, di tanta voglia di far vedere che qua si può giocare un bel palacanesto, tante ambizioni della squadra e io di quello che posso dare la esperienza, la grinta e provare a fare migliore che possiamo fare insieme che io credo con quello che sono arrivata che possiamo fare tante belle cose. Questa domenica ci aspetta una bellissima partita a Empoli, vi invito tutti a seguirci anche in questa trasferta e poi da settimana dopo vi aspetto tutti il nostro palazzetto che non vedo ora. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!